Giunge alla non-edizione la stagione concertistica Incontri Musicali Mediterranei, divenuta ormai una delle realtà musicali più importanti nel sud Italia. Anche quest'anno la programmazione si presenta ricca di sorprese e alterna concerti per pianoforte, solo con concerti di musica da camera, concerti lirici e la presenza stabile dell'orchestra in residence. Si concluderà il progetto dell'esecuzione per la prima volta a Crotone dell'integrale delle sonate per pianoforte di Beethoven, proposto dal maestro Giuseppe Maiorca. Si esibiranno per la prima volta i pianisti solisti Alessandro Simoni, Angelo Nassuto, Lucia Paradiso, Alejandro Giuseppe Libano, Francesca Papa, Giuseppe Taccogna e Maurizio Mastrini, che presenterà i suoi brani originali, seguitissimi dai giovani su Spotify. Verrà dato spazio alla musica da camera con il duo violincello e pianoforte formato da Silvia Gira e Giorgio Trione e Bartoli, il duo viola e pianoforte formato da Rocco De Massis e Domenico Monaco e il duo pianistico formato da Davide Valluzzi e Lucia Veneziani. La divina Maria Callas sarà celebrata nel centenario della sua nascita dal soprano Teresa Cardace, dal mezzo soprano Marte Rimigna Floro e dal pianista Francesco De Siena. L'orchestra degli incontri musicali mediterranei sarà diretta quest'anno dal maestro Roberto Gianola, direttore dell'Opera di Istanbul. Un cartellone imperdibile per tutti gli amanti della grande musica si inizia sabato 25 marzo presso il Museo di Pitagora con il pianista romano Alessandro Simoni, pluripremiato in numerosi concorsi internazionali.